Sì, è una bellissima giornata per noi perché con otto giornate di anticipo, a mio avviso, troviamo quello che è il nostro evento principale del campionato, quindi l'aggiungimento della pervenza, quindi sempre con 46 punti, possiamo ormai dire che ci siamo, ci siamo garantiti un altro anno alla Jameson, ci mancano queste otto partite, ce le vogliamo giocare con grande personalità, con grande serenità, divertendoci e cercando di raggiungere anche un obiettivo che è stato storico.